ciao ragazzi e bentornati al nuovo video di tennis taste oggi vediamo come si monta l'overgrip sulla racchetta da padel ma prima di andare avanti iscriviti al canale lascia un like al video e soprattutto attiva la campanella delle notifiche non è un'operazione difficile ma è un'operazione che ha bisogno di attenzione ai singoli dettagli ecco di cosa abbiamo bisogno per fare questa operazione del cambio grip banalmente si può adoperare tranquillamente ad esempio quando siamo sul campo il nastro adesivo fornito insieme all'overgrip ma io per esempio adopero solitamente il nastro isolante nero perché mi piace insomma adoperarlo così e soprattutto forbici quando siamo quando abbiamo possibilità di tagliare il grip dove ci serve tuttavia quando siamo in campo possiamo avere necessità di montare il grip senza tagliarlo e vediamo come si può montare in diversa maniera allora innanzitutto la racchetta da padel come sappiamo ha il bracciale che può essere fastidioso per cui dobbiamo trovare un modo per legarlo e fare in modo che il bracciale non ci dia fastidio quindi cerchiamo un modo comodo ecco per tenerlo su vediamo se si mantiene si si mantiene perfetto quindi lo mettiamo così e procediamo ora il montaggio dell'overgrip sembra un'operazione banale ma io vi ricordo che i grip non sono montati in maniera sempre regolare o comunque è difficile trovare un grip che abbia lo stesso avvolgimento da lato e dall'alto semplicemente perché i grip sono studiati per fare un avvolgimento e poi scendere giù come in questo caso quindi di qui avremo già due avvolgimenti mentre di qui ne avremo uno solo allora cosa facciamo partiamo dal lato dove c'è meno grip dove c'è meno spessore così andiamo a compensare il nostro overgrip farà un solo giro sul lato dove già ci sono due avvolgimenti di grip e ne farà invece due qui dove invece c'è un solo strato in questo modo avremo più o meno diciamo lo stesso spessore e questo è fondamentale perché se cominciassimo di qua avremmo un grip che sarebbe di qui più o meno stessa larghezza di qua invece sarebbe ancora più spesso e quindi irregolare eccoci qua abbiamo già tolto la pellicola protettiva dell'overgrip abbiamo detto dobbiamo iniziare dal lato dove c'è meno spessore e quindi procediamo lo cominciamo ad avvolgere qui sulla sulla faccia dell'ottagono che è proprio di fronte a noi cominciamo ad avvolgere e ci assicuriamo che sia coperto totalmente il grip ecco qui il giro e facciamo perfetto via e arriviamo al punto in cui ecco qui appunto in cui il grip ci suggerisce di scendere ecco qua vedete è arrivato perfettamente sopra il secondo avvolgimento quindi sul lato dove prima c'erano due avvolgimenti adesso ce ne sarà uno solo quindi questo invece aveva un solo avvolgimento e qui ce ne saranno due quindi iniziamo a scendere tenendo comunque l'orientamento che il grip ci dà e via teso ma non tesissimo perché come vedete il grip deve aderire non deve fare le grinze quindi scendiamo ecco qua cercando di avere una presa regolare ed in questo caso questo è un grip molto elastico quindi è facile farlo aderire e dobbiamo decidere quanto avvolgimento dare nel caso delle racchette da paddle io preferisco dare questo avvolgimento un po più ampio mentre sulle racchette da tennis preferisco farlo diciamo che hanno manico più grande preferisco farlo un po meno sovrapposto comunque continuiamo ecco qua andiamo giù e via cerchiamo di avere anche per un senso estetico più o meno lo stesso avvolgimento via e andiamo a questo punto la racchetta da paddle consente di fare determinate cose cioè possiamo sia continuare e cercare quindi siamo sul campo ad esempio non siamo a casa non abbiamo le forbici in quel caso dovremmo continuare finché è possibile io un'altra cosa che vi consiglio sulla racchetta da paddle cercate di finire un po più sopra perché spesso i manici sono corti e quindi completare l'over grip sul telaio vi può aiutare ad avere un pochettino più di alloggiamento per quanto riguarda le dita soprattutto l'indice quando anche spendete la mano e volete giocare magari una bandega quando volete giocare un colpo più in spin si può andare oltre e realizzare appunto come vedete a qualche campione dell'epoca del tour oppure qualcuno che gioca un grip che giri ancora più sopra tendenzialmente questo basta la mia mano arriva qui quindi se il grip mi finisce qui posso anche tagliare e allora procediamo a tagliare taglieremo più o meno in questa direzione in maniera tale che vi sia una sorta di linea perpendicolare al grip quindi in maniera che vada dritta e quindi che vada così questo è il taglio che devi avere ora vi faccio vedere come viene ecco il grip tagliato ora questo grip ci consentirà di chiudere il grip in maniera regolare esattamente alla stessa altezza dall'altro lato arrivati a questo punto dobbiamo semplicemente chiudere e quindi andare a mettere il nastro come vedete io preferisco il nastro isolante per una motivazione molto semplice perché il nastro isolante può essere maggiormente teso seguire le forme del telaio senza problematiche in questo caso lo sto mettendo in maniera più spessa ma io solitamente eccolo vedete come si allunga tendenzialmente lo allungo davvero tanto ecco qui cerchiamo di sovrapporlo quindi dare un senso anche estetico che fa sempre bene tiriamo e quindi ecco qua è messo il grip guardate sotto è più regolare rispetto a prima ecco perché è importante guardare dove inizia il grip è la cosa fondamentale poi la grinza cambia poco purché sia messo bene attenzione ma quello che è importante è rendere il grip sostanzialmente regolare altrimenti lì arrivano i problemi delle impugnature problemi del gomito e così via quindi un'operazione semplice che vuole un po di mestiere sicuramente ma è nulla che con il tempo non si possa imparare velocemente e risolvere il grip messo discretamente anche nonostante insomma guardassi in fotocamera beh direi che è soddisfacente no? insomma non è un'operazione difficile la potete replicare tranquillamente ogni volta che vi serve fatela spesso perché tante problematiche al gomito derivano spesso da un manico non curato oppure con un grip montato male un over grip messo male quindi attenzione al manico vi lascio qui un link all'approfondimento sulla misura del manico così potete comprendere meglio che cosa può comportare il manico che tipi di manico esistono e così via quindi mi raccomando montatelo sempre questo over grip fresco pulito e soprattutto scegliete l'over grip che fa per voi